Dopodomani, sabato 24 febbraio alle 18 all'Istituto Manzoni Uvara di Caltanissetta, con ingresso gratuito, terzo appuntamento con la stagione concertistica dell'Associazione Amici della Musica, dedicata al maestro Giuseppe Pastorello. In programma è il concerto lirico del soprano Daniela Gambino, accompagnata dal pianista Carmelo Mantione. In scaletta, tra gli altri, brani di Schumann, Litz, Chopin e Bellini. Grazie per la visione!